Novità importante per tutti i professionisti, Telegram lancia la sua piattaforma pubblicitaria, presto potremo fare advertising dentro i canali Telegram, poi ci sarà una versione premium per gli account. Prima di approfondire tratterò tutto il tema, che cosa comporta, perché è veramente molto importante, riguarda sia le persone sia le aziende. Lasciatemi parlare un attimo di fast forward, sì, ho notato che abbiamo il logo del Gwe Marketing Festival, è un po' in sovraesposizione qua, e una delle felpe la trovate su gwemarketingfestival.it slash shop, in collaborazione con Macron, insomma poi gli introiti saranno dati alla protezione civile, però insomma è bella, ce ne sono tante altre cose, zainetto, maglietta, andate a controllare come un grande creator che si rispetti, però questo non ha nessuna inclusione a pagamento delle cose. Comunque sia, fast forward, voi sapete che esce due volte a settimana, abbiamo rischedulato tutto, quindi il martedì esce il telegiornale, se lo avete perso andate a recuperarlo, secondo me è molto bello, sono 40 minuti la versione diciamo di questo martedì, mentre il giovedì me lo sono tenuto un po' più libero, un po' più libero per fare degli approfondimenti, per parlare di quello che mi piace e per portare dei nuovi format. Nel 2021 porterò nuovi format il giovedì, mentre il martedì resterà il telegiornale, poi ci saranno le live eccetera eccetera. Il prossimo martedì ci sarà la puntata del telegiornale, non so se uscirà il giovedì anche, quindi non so se faremo due puntate settimana prossima, però una sarà assicurata. Inizio gennaio, i winner e loser, insomma, il 12, per tutti quelli che seguono fast forward, 12 di gennaio alle 18 c'è la live, dove presento tutto quello che sta per accadere su fast forward, e non perché sto per creare un canale dedicato ai creator di YouTube, ma entriamo nella notizia di oggi, quella più importante in assoluto, e vi voglio mostrare, questo era lo shop che abbiamo sul GoMarketingFest, e vi voglio mostrarvi questo che è molto interessante. Allora, le novità di Telegram, c'è questa bellissima, io l'ho scoperta da Marta Bellizzi circa alle 11 della mattina, e subito ho fatto il post su connect.gt per informare le grandi novità di Telegram. Ce ne sono sostanzialmente due molto importanti. Uno, tutte le novità che riguardano l'aggiornamento delle piattaforme, è uscita una nuova versione dell'applicazione, e un'altra, quella che dice il CEO di Telegram, il futuro, che ora ne parliamo, che è una cosa importante. Allora, Marta ha fatto il post sul suo canale Telegram, io sono andato, diciamo, ad approfondire, a cercare di capire che cosa stesse succedendo, e la novità più importante sono le chat vocali. Andrea Ciraulo ha fatto un tutorial che vi mostra come funziona. Io vi spiego brevemente che cos'è questa funzionalità. Praticamente è una conference call aperta per i gruppi Telegram, funziona solo sui gruppi, e quindi è molto interessante dal mio punto di vista, perché consente, da un certo punto di vista, consente di fare una cosa molto importante, aprire una conference call, quindi andare in conference call, e parlare con le persone. Allora, andiamo a vedere qual è la funzionalità, come si attiva, praticamente dovete avere l'applicazione aggiornata, entrate nel gruppo, cliccate sul nome del gruppo, poi sui tre pallini, e esce, avvia, chat vocale. Credo che sia una cosa molto interessante per tutti, si apre questa conference call, dove chiunque può dire qualsiasi cosa. Andrea Ciraulo, ve lo ripeto, ha fatto un tutorial, così, se volete vedere come funziona, secondo me, è molto, molto interessante. Ma andiamo a vedere l'altra parte, cosa ci siamo detti prima? Ci siamo detti che le notizie sono due, una tutte le cose delle piattaforme, l'altro è il CEO, che fa un post. Che post ha fatto il CEO? Il CEO ha fatto questo post, con sette punti, che ora andiamo a trattare. Voglio mostrarvi perché Pavel Durov è, insomma, è qualcuno che ha le idee chiare di quello che vuole fare, ed è diverso da tutti gli altri, rispetto, insomma, a quello che siamo abituati. Quindi andiamo a trattare questi sette punti, facendo un attimo la contestualizzazione. Perché, ora, lo leggiamo perché è importante, che cos'è che dice Pavel Durov nel suo messaggio, nel suo canale, come preambolo di quello che sta facendo, come preambolo di tutto quello che sta dicendo? Dice, Telegram ha raggiunto i 500 milioni di utenti attivi, e quando cresci così, quando arrivi a questo numero, comunque è arrivato a un numero importante, hai due strade. O sostanzialmente inizi a fare soldi, oppure vendi la tua azienda. E nei sette punti, il primo punto è noi non venderemo Telegram. E attenzione, lui dice noi non venderemo Telegram, così come hanno fatto i fondatori di WhatsApp. Ed è molto importante. Poi lui dice che Telegram continuerà, deve continuare a servire il mondo per essere anche come esempio alle grandi tech company. C'è, sta sentendo, questo è il primo punto importante che ve lo volevo sottolineare, sta sentendo il peso di che cosa? Di quello che sta succedendo a internet. E a tutti gli effetti oggi Telegram è un unicum, se ci pensate. È veramente un unicum nelle grandi realtà. Ora, il contesto qual è? Lui ha fondato V-Contact, il social russo. È uno dei social più utilizzati al mondo. Quando lo ha fondato è stato un po' in compagnia, eccetera, eccetera. A un certo punto si è dimesso perché dal governo russo hanno cominciato a rompergli un po' le scatole. E siccome a lui questa cosa non piaceva si è dimesso, se n'è andato a Dubai, ha fondato un'altra azienda e ha lanciato Telegram. Quindi da tutte le ingerenze politiche lui se n'è uscito. Con suo fratello ha lanciato Telegram, il fratello ha creato tutto il protocollo e lui ci ha messo i soldi e l'infrastruttura perché ovviamente ha anche tutti i soldi che aveva fatto da V-Contact e dal fondo che aveva creato con il suo amico. Quindi diciamo che ha perseguito un'idea e la sta portando avanti. Non vedremo Telegram, non lo venderemo. Siamo da esempio per quello che stiamo facendo. E ha ragione. A tutti gli effetti l'internet di un tempo, ad oggi tra le grandi compagnie che hanno almeno mezzo miliardo di utenti attivi, c'è solo Telegram che ha questo tipo di bandiera. Anche Reddit ha questo tipo di alone. Sono sostanzialmente pochissime. E lui la sente questa cosa. Quindi primo dice questa cosa qua, noi non la venderemo. Poi dice due, molto importante, Telegram è qui per restare. Siamo solo all'inizio di quello che vogliamo fare. Il nostro viaggio l'ha appena iniziato. E poi il punto 3 lui dice, per riuscire a fare il punto 1 e il punto 2, cioè a non vendere e a rimanere e a innovare ancora, l'unica cosa che noi possiamo fare è iniziare a fare soldi. E inizieremo subito il prossimo anno. Con cosa? Perché è molto importante questo ed è un punto cruciale da capire per tutti. Lui dice, molte delle piattaforme per creator, eccetera, eccetera, fanno una cosa. Mettono dei post, cercano di guadagnare con piattaforme di advertising terze. Faccio un esempio, YouTube ti metti il link su Patreon e fai un sacco di post su Patreon. Sei su TikTok, cerchi di guadagnare non solo vendendo i prodotti e cerchi di interrompere un sacco il flusso utente. Lui non vuole questo. Quindi, di conseguenza, per fare in modo che sia tutto, insomma, tutto così, lanciano la propria piattaforma. E attenzione, il punto 4, lui dice, tutte le cose che attualmente sono gratuite resteranno gratuite. Noi aggiungeremo nuove caratteristiche che sono dedicate o ai team aziendali oppure ai power user. Quindi stiamo parlando, insomma, di premium user, come se tu paghi qualcosa per ottenere qualcosa in più. Questo è un aspetto cruciale. Quindi, è divisa a due la parte dove Telegram vuole monetizzare. È divisa a due. Una, è far pagare gli utenti per avere delle funzionalità aggiuntive come utenti di aziende. Può diventare molto importante. E avere, o power user. Quindi siamo nella Telegram Premium, chiamiamolo così. Quindi, tutto gratis, alcune funzionalità in più. Dopodiché, che cos'è che dicono? Noi faremo, per chi usa Telegram in modo normale, per noi resterà per sempre gratuito. Importante. Parte 5. Ora, tutte le parti di messaggistica, one to one o dei gruppi che sono cose private, non avranno la pubblicità. non ci sarà il nostro sistema pubblicitario. Quindi, loro stanno attaccando il sistema attuale pubblicitario che interrompe il flusso. Vedi quando siete su Google Discover che c'è un annuncio? Interrompe il flusso di qualcosa. O quando siete su TikTok che c'erano i TikToker che fanno pubblicità. O quando siete su YouTube, eccetera, eccetera. E interrompe. Telegram non vuole fare questa cosa. Quindi, lui dice, tutte quelle parti là rimarranno private perché crediamo che la comunicazione privata tra le persone debba essere free dall'advertising. Non debba avere advertising. E dice, tutte, inserire la pubblicità in questi flussi è sbagliato. Numero 6. Attenzione. Dice, dobbiamo considerare che Telegram ha una dimensione da social networking. Quindi, tutti i canali pubblici di Telegram che sono è importante questo passaggio che hanno il one to many come comunicazione. Ecco lì quando hanno tantissimi subscriber incomincia a diventare interessante come può essere questi canali hanno come un feed di Twitter può diventare interessante mostrare pubblicità in quei canali per aumentare insomma i nostri introiti. Molti usano piattaforme di terze parti fanno interrompe eccetera eccetera sono molto intrusivi questi messaggi. noi non vogliamo noi vogliamo eliminare questo tipo di sistema e mettiamo la nostra piattaforma perché lo ripetiamo ancora una volta se tu hai Twitter e vuoi monetizzare incominci a rompere le scatole con dei messaggi affiliazione eccetera eccetera piattaforme di terze parti Patreon per esempio affiliazioni un altro esempio no loro vogliono il loro sistema è questo che dice in più col punto 7 che siamo alla fine lui dice per esempio se Telegram inizia a fare dei soldi tutta la comunità ne avrà del vantaggio che significa tutta la comunità ne avrà del vantaggio che ovviamente miglioreranno la parte innovativa e faranno sempre più innovazione e riusciranno a mantenere un server che funzioni perché fare le video call per esempio è difficile quindi ci crediamo a lui Pavel è uno al quale gli dai la fiducia per quello che ha fatto per quello che è la sua storia insomma gli hanno rotto le scatole dal governo invece che vendersi se n'è andato se n'è andato se n'è andato a Dubai si è fatto un'altra azienda gli dai tanta fiducia poi ci sono i problemi di Telegram ma non riguarda questa cosa ora lui dice se iniziamo a fare soldi oltre all'innovazione anche i creator avranno dei vantaggi qual è il vantaggio ad ora ad oggi non c'è una compartecipazione da quello che ho capito dal messaggio magari queste cose cambieranno i proprietari dei canali che hanno molto traffico riceveranno in sostanza free traffic che cosa significa secondo me free traffic per come io l'ho intesa è come se il tuo canale che incomincia a fare traffico che incomincia a veicolare pubblicità a un certo punto loro ti danno la possibilità di spendere le pubblicità per far portare persone al tuo canale come se tu stesso potessi in qualche modo immaginare i coupon ti diamo 50 dollari faccio un esempio stupido per spenderli all'interno della piattaforma ma questo diventa interessante per le aziende incominciare se tu hai il tuo canale e incominci ad ospitare la pubblicità tu anche puoi fare pubblicità del tuo canale ma per un'azienda che investe e conosce i canali importanti può mostrare magari degli annunci molto personalizzati in determinati canali quindi non c'è la personalizzazione in base all'utente perché è basato sulla privacy ovviamente ma c'è sul canale sulla cosa tematica e questo è interessante oltre che divertente dal mio punto di vista perché se becchi i canali giusti che hanno molto traffico facendo una serie di investimenti puoi ottenere anche tu un buon traffico poi che cosa che dice per esempio se noi introduciamo dei premium stickers le persone che creano questi premium stickers potranno gli artisti potranno avere un introito economico quindi e poi dice questa è la telegram way è molto interessante la community sta prendendo molto bene questa cosa c'è un ci sono tutti i commenti poi sul suo sono quasi 6.000 commenti molti la maggior parte entusiasti c'è il canale progress telegram che ha fatto un sondaggio italiano il 50% delle persone ha votato trovo giusto che telegram monetizzi dove gli utilizzatori guadagnino le informazioni insomma è apprezzata quindi questa è la telegram way possiamo dire assolutamente di sì questa è proprio la telegram way assolutamente hanno fatto un'ottima un'ottima mossa e infine per concludere il suo messaggio una cosa molto importante lui dice intanto che faremo questo che cresceremo che potremo mettere nuove funzionalità potremo accogliere ancora più utenti di quelli che stiamo accogliendo oggi una cosa importante noi staremo indipendenti e saremo fedeli ai nostri valori incredibile questa cosa andando a redefinire come le tech company dovrebbero operare attenzione perché è veramente fortissimo questo tipo di messaggio che stanno mandando sì mettiamo la cosa pubblicitaria ma non per fare dare la possibilità a tutti di interrompere solo in alcune cose che rispetteremo la privacy eccetera eccetera quindi cavolo che messaggio che stanno mandando a tutti e per le aziende è una buona opportunità di essere visibili nei canali in modo molto molto tematico fatemi sapere cosa ne pensate sia di questo cioè questa non è una puntata classica del giornale di fast forward ma è un approfondimento su un singolo aspetto vorrei fare delle cose anche più tecniche sulla SEO su analytics sull'e-commerce turismo cose che verranno nel 2021 con tutti gli altri format che vi porterò qua perché oltre ai winner e loser che vedrete a inizio gennaio ho già fatto una puntata per i winner e loser di novembre ora farò quelle dei winner e loser di dicembre ma non è finito l'anno possiamo avere nuove aspettative ho dei nuovi format che voglio portarvi come le classifiche fatte però con un mio giudizio quindi dare un parere su vari aspetti di qualcosa e fare una classifica quindi non semplicemente la lista classica che non mi piace fare la lista classica e tante altre cose ho visto che avete apprezzato molto il telegiornale io sono contento ovviamente io sono su telegram mi trovate su fast forward con tutte le varie novità e per chi segue il canale youtube sappiate questa cosa martedì 7.30 il telegiornale giovedì un approfondimento ho un nuovo format inoltre io ho una newsletter ve lo dico tutto così siamo a posto ho una newsletter giorgiodoverniti.substack.com e sono community manager su connect.gt la più grande community italiana per chi si occupa di digital dove parliamo di tutte le novità che arrivano e riusciamo a fare un sacco di cose e un sacco di supporto grazie a tutti per aver ascoltato per essere arrivati fin qua noi ci vediamo il prossimo martedì e se siete arrivati fin qua se siete arrivati all'ultimo beh mettiamola una frase visto che questa è la vigilia io vi faccio tanti auguri niente chi è arrivato all'ultimo metta la frase che vuole dedicando un augurio a questa bellissima community di fast forward quindi non lo so buone feste fast forward buone feste persone che seguono fast forward buone feste professionisti buon natale tutto quello che che voi volete ci vediamo il prossimo martedì ciao